Rimaniamo fedeli a quanto Dio ci indica. Guardate che essere fedeli è difficile, però se noi siamo fedeli a Dio, il Signore guarda alla nostra fedeltà. San Pio è stato un fedele a Dio, sempre, anche nei momenti più oscuri, più bui della sua vita, sempre fedele a Dio. Ma oltre la coerenza serve anche la perseveranza. Dobbiamo perseverare. Il servo che vede tardare il suo padrone potrebbe anche stancarsi, infiacchirsi, corrompersi, allontanarsi dalla coerenza e dal fervore iniziale. Il padrone non arriva, quindi io faccio quello che voglio. No, fratelli miei, il risultato sarebbe ugualmente disastroso. Al Signore non servono, ricordiamolo, i fuochi di paglia, ma persone disposte ad attenderlo e a seguirlo fino in fondo, con coerenza e perseveranza, con fiducia e con fortezza. Preghiamo allora, rivolgendoci alla Madonna, chiedendo questa grazia, coerenza e perseveranza. Allora saremo dei buoni cristiani. Padre Pio esortava tante volte dicendo, fate i buoni cristiani. Fratelli e sorelle, facciamo i buoni cristiani. Sia lodato Gesù Cristo.